Come tecnica di biohacking possiamo nominare la luce. Perché la luce è una terapia di biohacking? Perché lo dice Fabio Fontana? No, perché ci sono più di 70.000 pubblicazioni scientifiche sulla Banca Dati Mondiale della Medicina dell'uso della luce come terapia e come disciplina di modulazione del corpo. Basta cercare sotto la voce Infrared Therapy, Red Light Therapy, Ultra Low Level Laser Therapy, Low Level Laser Therapy, Photo Biomodulation e Photo Stimulation per accoggervi che il mondo scientifico è pieno di conoscenze su come la luce può migliorare il nostro metabolismo. E cosa fare per capire come utilizzare la luce al nostro vantaggio, visto che viviamo e lavoriamo al chiuso, almeno la maggior parte di voi sicuramente vivranno e lavoreranno al chiuso e abbiamo inventato delle tecniche, delle strategie, delle tecnologie che servono invece proprio per usare la luce come terapia e aiutare attraverso la luce il tuo corpo a stare veramente meglio, a portarlo a un altro livello. Terapia Luminosa, scopri di più cliccando qui sotto.